Mi chiamo Nicola Zarattini, ho 35 anni e vengo da Verona. Sono uno sciatore che si diverte, provengo dallo sci alpino, ma poi ho evoluto il mio stile fuori pista, allo snow park e su tutte le forme che offre la montagna per sfruttare a pieno le nostre attrezzature. Io tutto l'inverno uso un Mindbender 90C che si adatta bene a tutte le situazioni, montato con un Kingpin che mi permette di pellare se c'è bisogno di pellare, di navigare in fresca, ma anche di tirare due curve in pista belle caravate. Sono alto 1,70, peso 63 kg e il mio numero di scarpe è 41,5. Il mio sogno si evolve costantemente perché per sopravvivere ci vuole un sogno e bisogna continuare a sognare sempre.